E' degenerato in un accoltellamento il litigio avvenuto tra due giovani nella serata di mercoledì 31 luglio a Nardò. I due corrissanti, un 21enne ed un 61enne, sono ospiti del centro di accoglienza di Boncuri. Qui intorno alle 21.30 presso il piazzale Fumarolo avrebbero iniziato a litigare durante il diverbio, poi sarebbero spuntati i coltelli. Uno è stato colpito al braccio sinistro mentre l'altro ha riportato ferite all'addome. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati gli altri ospiti del centro che hanno provveduto ad allertare immediatamente le forze dell'ordine. Il personale del 118, i sanitari dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato i feriti presso l'ospedale Sacro Cuore di Gallipoli in codice giallo. Le loro condizioni non sono gravi agli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Nardò il compito di indagare sull'episodio con l'ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e le testimonianze dei presenti. Si tratta del secondo accoltellamento in solo un mese all'interno del centro di accoglienza. L'ultimo episodio simile si è verificato il 10 luglio scorso anche per questa vicenda che ha registrato il ferimento di un 32enne di origine marocchina e la convalida dell'arresto nei confronti di un connazionale trentenne. Il locale commissariato sta svolgendo la dovuta attività di indagine. La pista al vaglio degli investigatori è che dietro questi episodi possano celarsi scontri per il posto di lavoro e dunque potrebbe trattarsi di caporalato.